Costanza Fronimonte per la CGL, allora come è andato questo incontro? Un incontro, innanzitutto mi chiedo scusa per la voce ma il periodo di influenza, un tavolo molto diverso dalle altre volte, dove ci siamo dette tutte le problematiche senza nasconderci nulla. C'è un vento nuovo, c'è un impegno di questo tipo, si riparte da capo, i punti che abbiamo presentato all'azienda, i vari cinque punti su cui non facciamo sconti, tra questi in particolare la sicurezza rispetto al pagamento puntuale degli stipendi, la sicurezza dei mezzi, il versamento del TFR che ormai c'è un bel po' di arretrato, sono tutti impegni che verranno rispettati di fronte alle massime istituzioni, il prefetto, il questore, e diciamo che ne usciamo da questo tavolo soddisfatte. Naturalmente noi adesso faremo il passaggio in assemblea con i lavoratori spiegando tutto l'esito di oggi. Ecco, Alessandro Luzzi della Cisla, insomma, ottimismo mi pare di capire. Sì, diciamo moderatamente ottimisti, nel senso che è chiaro che poi a tutto quanto detto oggi e quello che diremo nell'assemblea con i lavoratori, rispetterà poi la parte più importante e il ruolo fondamentale all'azienda nel rispetto di quanto ci siamo detti. Ma possiamo, come dire, anticipare che i toni e sicuramente le rassicurazioni dell'azienda sono sul viatico della risoluzione del problema e non di accentuare il problema in essere in questo momento. Ancora Luigi Lamarca per la UIL. Insomma, l'unità dei sindacati ha trovato risposte positive anche a questo tavolo di confronto su un problema che era delicatissimo, dobbiamo ricordare, perché prima di tutto c'era un discorso dei salari, dei meri. Sì, diciamo, prendiamo atto anche che l'azienda non solo ha pagato gli stipendi con 10 giorni di anticipo adesso, anziché dei 15 di ritardo, ha pagato anche ai lavoratori gli interessi dei 10 giorni di ritardo. Quindi è un bel approccio che dà ai lavoratori, anche perché i lavoratori hanno dimostrato attaccamento verso questa azienda in molte occasioni, andando all'incontro, non facendo decreti giuntivi, non penalizzando questa azienda e cercando di tirarla su. L'azienda ha dimostrato volontà di ripartire, creando un nuovo tavolo di trattative con altri soggetti, non con i soggetti nel passato che magari si ponevano verso i lavoratori in modo arrogante, con presunzione, ha capito che hanno delle criticità aziendali dove le amministrazioni a livello nazionale non la pagano. Come si vede dai bilanci dei meri, ha dei grossi crediti da parte dei comuni a livello nazionale e dove aziende piccole che non hanno le coperture economiche falliscono, loro stanno cercando di fare dei bad company a livello nazionale per ripartire. è una sorta di federalismo e di pagamento, quindi i soldi della provincia di Imperia dovrebbero rimanere al nord e non partire sul territorio nazionale. Noi ci auguriamo che i lavoratori ci ascoltano nelle assemblee e spieghiamo le motivazioni per cercare di ritare lo sciopero, perché non c'è nessuna volontà da parte del sindacato e dei lavoratori di rovinare una manifestazione come di Sanremo. Ecco, ma allora questo sciopero, Costanza Primomonte, ci sarà o non ci sarà? Non ci sarà. Non ci sarà perché le condizioni di oggi, come dicevo prima, questo vento nuovo, autorevole, ci ha consentito di revocare lo sciopero. Naturalmente le assemblee restano confermate e ci sarà un confronto diretto, un confronto più ravvicinato e quando si parla di vento nuovo, è vento nuovo, sono cambiati i soggetti e quindi la battaglia che abbiamo condotto mi ha dato veramente, speriamo, dei buoni risultati. Continueremo così naturalmente, non ci fermeremo. Grazie. Grazie.